Conociendo a continuazione la proposta di Artepolis, la siguiente empresa della che le va a hablar ella, Zoraida Alvarez, che è turistico, e ci vuole sottolineare un'altra similitudine tra Siviglia e, credo, Venecia. Siviglia assomiglia alle città d'Italia più di ogni altra in Spagna. Non ho visto palazzi migliori o più belli in tutta la Spagna, tra le sue mura tanti giardini. Buongiorno, mi chiamo Zoraida e con questa bella descrizione dell'anno 1526 dell'ambasciatore della Repubblica di Venezia, Andrea Navagero, vorrei ricordare la storia comune tra la mia città, detta la Nuova Roma, e l'Italia. Sono una storica dell'arte, sono una guida turistica in Andalusia e a Siviglia, e gestisco la mia azienda di Artepolis.es, anche sono specializzata in musei e nell'interpretazione del patrimonio. Sono la persona che riceve il cliente, che gli mostra la regione, ma i miei servizi iniziano prima del suo arrivo. Posso offrirvi consigli personalizzati e aiutarvi a pianificare le attività di svago con la guida, transfer, spettacoli, esperienze gastronomiche, personal shopping e tour culturali. Tutto ciò per ottenere la migliore esperienza possibile per i vostri clienti e i vostri gruppi. Ma non è importante solamente le attività culturali o di svago. Ritengo fondamentalmente che l'agenzia di origine possa contare su una garanzia in termini di sicurezza e saluti per i clienti. Perché durante le visite guidate devono affrontare inconvenienti e imprevisti come urgenze mediche, incidenti, perdita di oggetto, eccetera, che richiedono un'attenzione personalizzata dalle guide. E spero che possiamo continuare a parlare per valutare le vostre esigenze e per offrire il nostro miglior budget. Potete contattarmi attraverso i dati che avete sullo schermo. Grazie mille per la vostra attenzione e buona giornata. Grazie mille per la vostra attenzione e buona giornata.